Musica Benvenuti a Primo Cittadino che torna dopo la pausa natalizia, la prima puntata dell'anno la dedichiamo al comune di Sant'Ippolito insieme al suo sindaco Marco Marchetti. Benvenuto nei nostri studi, per lei la prima volta al nostro programma. Grazie dell'invito, buonasera a lei Simona, buonasera a tutti i telespettatori e approfitto visto che siamo l'8 di gennaio anche per augurare un sereno 2024 alla redazione di Fano TV ma anche a tutti i nostri telespettatori. Ricambiamo di cuore, grazie mille. Intanto vi ricordo che se volete potete intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un breve messaggio di teso al 338 49 68 250. Avremo tanti argomenti da trattare ma innanzitutto sindaco le chiedo come sono andate queste festività, è riuscito a fermarsi? No, fermarsi è impossibile però è stato un movimento molto positivo perché qui approfitto subito per ringraziare tutte le nostre associazioni di Sant'Ippolito che hanno creato un calendario degli eventi veramente ricco. Abbiamo sfidato quasi 30 eventi durante il periodo natalizio che per un comune come Sant'Ippolito sono obiettivi molto importanti. Tutte iniziative che hanno avuto una grande riuscita ma la cosa che mi riempie di orgoglio è che abbiamo saputo dargli anche un colore di solidarietà ed è giusto che sia così a Natale. Tante delle nostre iniziative hanno avuto poi uno scopo benefico e tante associazioni sono riuscite ad avere anche un loro contributo da parte della nostra comunità. Mi piace citarle, l'associazione Adamo, l'Ali, il centro antiviolenza parla con noi di Pesaro, piuttosto che le donne indiane di Camura. Sono tutte iniziative che hanno dato la loro solidarietà e come non dimenticarsi il regalo che abbiamo fatto ai bambini ricoverati in pediatria all'ospedale di Fano grazie all'associazione nazionale Carabinieri. Ma poi ci sono state anche delle iniziative che hanno voluto dare invece un aiuto al comune di Sant'Ippolito in quanto ci sono state anche delle raccolte fondi, una tra le quali per rimettere in funzione le campane di Sor Bologo. Quindi molto soddisfatti di come è andato questo Natale. Una comunità attiva e solidale appunto. Ha parlato di ospedale, tra l'altro il primo nato dell'anno all'ospedale Santa Croce di Fano è proprio di Sant'Ippolito. Si chiama Enrico ed è figlio di Marianna Provedi e Luca Grottoli. Quanti abitanti conta Sant'Ippolito? Adesso con Enrico abbiamo un saldo più positivo, siamo poco sotto i 1500 abitanti ma intanto approfitto chiaramente per rinnovare qui gli auguri per questa nuova avventura sia Enrico sia Miriana. Gli avevo detto i giorni prima se potevano aspettare fino al primo di gennaio per fare il neonato e quindi è stato. Quindi hanno realizzato un desiderio del sindaco. Però ci sono dei dati che stanno uscendo, che studi da parte della CNA e anche del Galfa Minicisano, che dimostrano che Sant'Ippolito chiaramente sta dentro determinati trend, che vedono purtroppo come ormai dappertutto una certa decrescita della popolazione. Ma abbiamo un dato molto positivo, siamo tra i comuni più giovani della vallata. Secondo soltanto Colle al Metauro, quindi questo ci riempie d'orgoglio perché fa capire che siamo una comunità dinamica, attiva e viva. Torniamo un attimo a parlare delle festività di Natale perché il campanile, abbiamo visto che si è acceso, è stato illuminato di rosso, quindi un progetto in realtà che fa parte di una iniziativa più ampia di valorizzazione dei beni. Assolutamente sì. Intanto voglio assicurare a qualcuno che il rosso gli sembrava un po' troppo acceso, che i prossimi giorni tornerà a una colorazione più neutra. Ma chiaramente questo è un progetto di valorizzazione delle nostre bellezze che non si fermerà soltanto al campanile di Sant'Ippolito. Qui devo ringraziare Enel X che è la nostra partner in questa progettualità. Infatti sin dai prossimi giorni, nelle prossime settimane, andremo a fare un'illuminazione artistica anche di altri monumenti del nostro comune come l'Arco di Reforzate, come la Chiesa di Sorbolongo e le Cinta Murea di Sorbolongo. Dovrei dire che dentro questo pacchetto c'è la valorizzazione delle nostre bellezze ma anche degli interventi di utilità perché grazie sempre a questo progetto metteremo insieme anche una serie di illuminazioni fotovoltaiche in dei punti dove la rete pubblica non arriva, andremo a mettere nuove telecamere di videosorveglianza nel territorio e andremo anche a illuminare dei passaggi periodonali che sono abbastanza delicati. Quindi è un progetto ampio che però dà risalto alla nostra comunità. Vedo anche diverse tonalità per cui può essere adattato alle varie esigenze, ai vari eventi. Sì, stanno già arrivando richieste anche tra le più bizzarre. Una ieri sera che un ragazzo mi ha chiesto di una collaborazione particolare per il suo compleanno. No, però si si divertirà con questo progetto perché soprattutto mi vengono in mente alcune giornate internazionali in cui la nostra comunità partecipa che ormai hanno un colore di riferimento quindi quando il Comune di Sant'Ippolito parteciperà a queste giornate darà anche un segno visibile. Oltre al fatto che questo era il nostro obiettivo, vedere che il campionino di Sant'Ippolito anche di notte lo si vede da un raggio molto molto ampio, chiaramente è un punto di riferimento. Visto che pochi giorni fa era l'Epifania, occorre ricordarsi che i magi per seguire la bellezza e la grandezza seguivano la luce. Questo è lo stesso obiettivo che ci siamo posti. Un bel effetto. Passiamo ai lavori pubblici. Diciamo appunto che sono tanti temi da trattare. Partirei dalla piazza di Sor Bolongo che è stata inaugurata la scorsa estate, anche noi eravamo presenti con le nostre telecamere. È un punto di riferimento questa piazza che è stata al centro di lavori di riqualificazione. Tra l'altro c'era anche una festa importante in più in quell'occasione. Era il 9 giugno. Era comunque uno dei borghi più belli della provincia e quindi come aveva detto lei all'epoca meritava questo tipo di intervento. È un orgoglio essere riuscito a portare a termine questo progetto. Finalmente Sor Bolongo alla sua piazza, alla piazza che meritava e quell'evento particolare che lei citava è chiaramente i 40 anni di attività di un nostro barista storico, il Bar Silvio. Ed è un regalo perché Silvio non è soltanto un barista ma è un punto di riferimento. È il primo che si sveglia la mattina per tener pulito il nostro borgo, è l'ultimo che va letto la sera ma soprattutto è il primo che dà una mano a tutti coloro di cui hanno bisogno. Ma non ci fermeremo qui. È notizia di pochi giorni fa. Abbiamo riusciti a vincere un bando della Regione Marche chiamato Borgo Accogliente che ci darà quasi 10.000 euro per poter fare nuovi progetti sui nostri borghi. Quindi abbiamo realizzato ma dobbiamo continuare a guardare avanti. Sono risultati importanti. Vuol dire che insomma siete riusciti a intercettarli. Assolutamente sì. Poi prima parlavamo di Enrico, del neonato Enrico, è di Sorbolongo. Quindi queste sono le nostre ricchezze che dobbiamo assolutamente mantenere vive, dobbiamo sapergli dare un futuro e soprattutto ricordarci che sono quelle che caratterizzano il nostro territorio. Non dobbiamo chiuderci nel campanile perché queste ricchezze non appartengono solo a Sant'Ipolito ma appartengono a tutta una nostra vallata. Dobbiamo saperle mettere in rete e dobbiamo sapere ridargli un futuro anche portando delle novità e delle innovazioni nel rispetto delle tradizioni. A proposito di tradizioni di storicità, prima ha citato Silvio, punto storico del Bari, il suo nome è stato inciso sui San Pietrini. Sì, quello è uno scherzo dell'architetto che ha fatto la piazza che senza dirmi niente ha voluto riportare in sei o sette San Pietrini i nostri storici. Io gli parlo di resistenti, quelli che a Sorbolongo non si muovono da Sorbolongo che tutti i giorni presidiano questo nostro borgo a cui va un grande applauso perché se Sorbolongo oggi ha la sua piazza è il merito anche di queste persone che hanno mantenuto salde le loro radici nel nostro territorio. Vero. Passiamo ad altri lavori. Al nuovo asilo, ad esempio, nuovo asilo nido, l'ampliamento della scuola dell'infanzia. Vediamo in questa immagine che appunto il cantiere è stato aperto. Sì, qui sono due progetti che stanno partendo, il cantiere è già attivo. Il primo riguarda l'ampliamento della scuola dell'infanzia già esistente a Pian di Rose. Questo proprio per tornare a quello che dicevo prima, abbiamo delle dinamiche molto importanti tali per cui gli spazi della scuola dell'infanzia attuale rischiavano di essere troppo stretti, troppo risicati per quelle che sono anche le attività didattiche odierne. Accanto a questo, quindi questo riguarda un ampliamento, accanto a questo abbiamo voluto fare anche una sfida in più. Ed è la costruzione di un asilo nido comunale nuovo. Anche qui il progetto è molto ambizioso, perché abbiamo voluto ideare un asilo nido per 30 bambini. Paragonandolo chiaramente agli abitanti di Sant'Ipolito, uno viene a dire che un conto è essere positivi, ma qui siamo oltre l'ottimismo. Ma in realtà no, dietro questo progetto c'è proprio quello che dicevo prima, la capacità di stare in rete con gli altri comuni. Sappiamo che anche nei comuni a noi a fianco ci sono delle liste d'attesa molto lunghe, quindi la nostra idea con questo asilo nido è di creare una vera e propria rete degli asili comunali per far sì che tutti i bambini, tutte le famiglie, possano avere il giusto servizio. Ricordiamoci che qui ci passa un punto fondamentale, perché tante giovani coppie, anche per decidere dove andare a risiedere, per programmarsi la loro vita, necessitano di questi servizi. Questo è un servizio fondamentale. Per questo abbiamo voluto volare più in alto rispetto alle nostre capacità, perché pensiamo che qui ci troviamo un futuro molto importante, non solo per Sant'Ipolito, ma per tutta una vallata. Quando vedrà la luce, pensa? I lavori sono partiti, siamo dati poco più di un anno, no? Chiaramente io nel pubblico non mi sbilancio mai su quando, però credo che il 2024 sarà un anno decisivo, probabilmente nei primi mesi del 2025 riusciremo a comprare. Ah beh, insomma, tempi celeri. E il finanziamento invece, in questo caso, casse comunali? Questo è tutto PNRR. Ah, quindi per forza comunque entro il 2026, no? Entro il 2026, sì. Visto le scadente che impone. Entro tutto il PNRR, approfitto per ringraziare anche l'architetto Marchegiani, che è stato l'artefice di questa nostra sfida. e quindi è tutta un'opera che andiamo a realizzare senza che dalle casse del comune esca neanche un euro. Quindi obiettivo centrato in tutte le direzioni. Passiamo invece al nuovo centro civico di Pian di Rose. Anche in questo caso dovremmo avere delle immagini. Ecco, qui si tratta di una ex scuola. Questa è l'ex scuola di Pian di Rose, che ormai è chiusa da diverso tempo, che rischiava anche di andare in una situazione poco carina, un luogo da abbandono. Abbiamo perciò deciso di rilanciarlo. Con questo primo intervento andremo a realizzare un centro civico. Chi conosce bene la zona sa che tra la scuola c'è poi un'isola ecologica e poi c'è un campo sportivo. La nostra idea è di creare un'unica area. Quindi andremo a spostare l'isola ecologica, che lì non ha alcun senso, per creare anche un parco dove sarà possibile festeggiare compleanni, fare momenti ricreativi, fare delle feste. E la mia intenzione è quella di provare a dare in gestione questa, non gestirla come comune, ma farla gestire alle associazioni. È un progetto, questo è un progetto che siamo riusciti a ottenere attraverso i GAL, quindi attraverso i fondi europei. È un progetto anche questo che ha dei tempi cortissimi, perché entro i primi mesi del 2025 dovremmo terminare l'intervento. Non so se riusciremo a completarlo nella sua interezza. Ci ha voluto un po' di più perché su questa, e mi piace sottolinearlo, su questa situazione avevamo anche un secondo intervento, un secondo finanziamento di circa 350 mila euro, ma abbiamo deciso di non investirlo su pian di rose, ma abbiamo deciso invece di donare questi 350 mila euro, tra virgolette, al comune di Fossombrone, per fare un progetto unico, perché erano soldi finalizzati al dopo di noi, quindi un progetto sul sociale. Ci sembrava non corretto suddividere le risorse in tanti piccoli punti, quindi nonostante Sant'Ippolito avesse raggiunto quell'obiettivo di quel finanziamento, abbiamo deciso che in un'ottica di territorio era giusto invece fare un progetto più ampio, e quindi il primo piano dove era destinato, in questo caso il dopo di noi, a pian di rose, non si farà perché abbiamo concentrato tutte le risorse. Quindi ci sarà poi da sviluppare il primo piano di questo edificio, lo vedremo più avanti con nuove progettualità. Invece l'ex asilo di Sant'Ippolito in cosa verrà trasformato? L'ex asilo di Sant'Ippolito non è una struttura comunale, è una struttura parrocchiale, e qui devo dare atto all'ingegnere Canucoli, che insieme alla parrocchia, tra l'altro, ho avuto anche l'onore di ospitare Sua Eccellenza il Vescovo un mese fa a Sant'Ippolito per presentare un nuovo progetto. Questo era un ex asilo gestito dalle suore, diventerà invece un centro dove i ragazzi potranno andare a fare campo scuola, quindi anche con la possibilità di risiedervi. Noi come Comune abbiamo voluto mettere la nostra parte, adiacente a questo edificio c'è il campo sportivo di Sant'Ippolito, non c'è ancora arrivata la notizia ufficiale, ma siamo ormai certi che questo si compirà. Abbiamo vinto un bando della Regione Marche insieme al CONI che ci finanzia 125 mila euro, che saranno destinati a ristrutturare il nostro campo sportivo, a creare una nuova illuminazione. Devo ringraziare anche il consigliere regionale Giacomo Rossi che ha dato un ulteriore contributo di 10 mila euro, quindi verrà uno spazio dove i ragazzi potranno andare a risiedere, fare le loro attività e avranno accanto un campo dove potranno divertirsi, avere un luogo all'aperto dove fare laboratori e qualsiasi altro tipo di attività sportiva. Sindaco, le devo dire la verità, per un Comune così piccolo come quello di Sant'Ippolito non mi sarei mai aspettata, insomma, tutti questi fondi intercettati, questi finanziamenti, sono in tanti a lavorare in Comune o sono, come si dice, pochi ma buoni? Credo che ci sia stata un'intuizione iniziale, non abbiamo aspettato che uscissero i bandi per fare i progetti. Gli avevate già pronti in questo caso? Avevamo i progetti già pronti perché avevamo una visione, abbiamo una visione e in base a questo abbiamo iniziato a studiare, a costruire progettualità chiedendo anche ai nostri professionisti di investire su se stessi. Non eravamo sicuri che potessero arrivare bandi appositi, ma la scommessa è questa, scommettere, sognare su qualcosa ed essere pronti poi quando quel sogno si può concretizzare. Questo è stato il carattere di questi anni. Ricordiamoci anche che è vero che abbiamo avuto questi fondi, purtroppo però questi fondi sono derivati anche da delle difficoltà perché sono fondi che nascono dal PNRR, ma il PNRR nasce perché abbiamo avuto due anni di grossa difficoltà come l'emergenza Covid che ci ha impegnato veramente duramente. Bene, allora andiamo avanti perché abbiamo ancora tanto di cui parlare, a meno che non dobbiamo andare in pubblicità, Reggio ci dobbiamo fermare? Ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo in diretta con il sindaco tra poco. Bentornati in diretta con il sindaco di Sant'Ippolito Marco Marchetti. Abbiamo parlato di tanti progetti, di opere concluse, di interventi che dovranno essere realizzati. Sindaco, proseguiamo con il bel vedere di Sant'Ippolito, anche qui abbiamo delle immagini suggestive. Sì, il bel vedere è un progetto che abbiamo presentato il mese scorso, visto, tra l'altro, la curiosità è anche una legge nazionale che mi sono vantato di varare nel momento in cui ero parlamentare, per cui è una legge che è dedicata ai piccoli comuni, che cerca proprio di finanziare interventi che vanno a veramente riconoscere la bellezza del nostro paesaggio e dare un valore in più al nostro territorio. Questo è un progetto sempre dell'ingegner Canucoli che si posiziona proprio in un punto centrale di Sant'Ippolito, perché siamo lungo la via principale, e permetterà a tutti coloro che arrivano nel nostro comune di godersi la bellezza del nostro territorio. Per cui siamo in attesa di sapere che fine farà questo bando. Noi abbiamo presentato, siamo ottimisti, sapendo che se anche questo giro non va bene, questa è una legge dello Stato, per cui verrà rifinanziata anche negli anni successivi, perché vogliamo scommettere fortemente su questo tipo di intervento sul nostro capoluogo. Valorizzano poi anche tutto ciò che c'è intorno, quindi è un progetto importante, insomma, sotto tanti punti di vista. Assolutamente sì, poi da queste immagini non si vedono, non si vede ma da qui partono anche dei percorsi che possono collegare sia al campo sportivo di cui parlavamo prima, ma sia anche ad altre realtà. Accanto a questo c'è il museo degli scalpellini, accanto a questo si ascede verso la Rocca, quindi è in un punto strategico che ci permette non solo di fare decoro urbano, ma di sapere anche meglio valorizzare Sant'Ippolito e le sue particolarità paesaggistiche. Andiamo avanti con le immagini, Sindaco, per commentarle insieme. Abbiamo quelle del camminamento, che collega due borghi di Sant'Ippolito e a Reforzate. Vediamo se riusciamo a recuperare queste immagini. Eccole qua. No, qui siamo su Vierossini, ma poi ci torneremo anche su questo. No, il camminamento ancora è soltanto un'idea che abbiamo, in quanto sappiamo che sta, ecco questo è il progetto del camminamento che collega Sant'Ippolito e a Reforzate, questa è lungola provinciale, un percorso che tutte le mattine e tutti i giorni vede tanta gente camminare lungo questa arteria, in quanto oltre alla bellezza si fa anche una passeggiata salutare. Perché ancora vediamo solo delle foto e solo dei progetti? Perché, torniamo al discorso di prima, da tempo sentivamo che potevano uscire dei progetti dedicati ai nostri borghi, siamo in dirittura d'arrivo, sappiamo che entro il 15 di gennaio ogni comune, soprattutto quelli sotto i 5 mila abitanti, possono presentare almeno tre progetti da circa un milione e mezzo l'uno. Questo del camminamento tra Sant'Ippolito e Reforzate è uno dei tre progetti che presenteremo, ma non solo questo, perché avendo tre borghi, come Sant'Ippolito, Reforzate e Sorbolongo, la nostra intenzione è presentare un progetto di rivalorizzazione di ciascuno dei nostri tre borghi. Per intenderci, a Sant'Ippolito vorremmo finire nella Rocca il completamento della pavimentazione, a Reforzate vorremmo andare a risistemare l'arco di ingresso che ha delle necessità, mentre a Sorbolongo dovremmo fare un intervento sui sottoservizi, su Viale Abberici, che è la via principale. Per cui anche su questo abbiamo avuto dei finanziamenti, ma dobbiamo già pensare a quelli futuri. Per cui questi sono tutti interventi che vogliono valorizzare le bellezze di Sant'Ippolito. Per noi è un vanto avere tre borghi e questi tre borghi per noi sono una grande fonte di ricchezza. Per cui continueremo a lavorarci forte su questa direzione. Quando presenterà questi progetti? Credo che entro il 15 gennaio, perché questo è un bando che si sviluppa in due fasi. La prima fase vengono finanziate le spese progettuali, quindi noi nella prima fase dovremo mandare delle idee. Una volta finanziate, quindi possiamo fare i progetti, ci sarà poi un secondo bando che invece andrà a finanziare le opere. Quindi dovremo essere pronti intanto con le idee, dovremo essere pronti con i progetti. E' un tempo un po' più lungo, ma proprio per questo ci stiamo lavorando con forte insistenza e con molta cura e attenzione ai particolari, perché molte volte in questi bandi basta sbagliare una virgola e si perde il finanziamento. Abbiamo visto prima le immagini di Via Rossini, quindi recuperiamo, visto che le abbiamo intraviste. Qui invece il sindaco? Allora, Via Rossini abbiamo una parte già completata, una parte invece è un progetto futuro. In Via Rossini siamo riusciti a fare un'idea di riqualificazione, parliamo di una tra le zone più densamente abitate di Sant'Ippolito, quindi la prima fase intanto è aver assicurato le pensiline ai bambini che salgono nel pulmino e il loro è un marciapiede di sicurezza. Tra l'altro un'altra parte, qui lo si vede bene in questa foto, è una parte che completa un camminamento che avevamo su Pian di Rosa e che a un certo punto si interrompeva nel nulla, invece grazie a questo intervento riusciamo a completare tutto un camminamento per intenderci a partire dall'Union Moda fino ad arrivare al bar centrale di Pian di Rose. Ma la riqualificazione dell'area non finisce qua perché nelle nostre intenzioni lì c'è un campo polivalente che sta sotto un treliccio di alta tensione, quindi per noi è molto difficile andare a fare interventi futuri, quindi la nostra opzione è quella di spostare questo campo in una zona più sicura, dove attualmente in questo campo andremo a costruire dei parcheggi e in tutto questo progetto riusciremo anche a creare delle zone verdi e uno skate park, quindi è un progetto di una forte riqualificazione e ridare a questa via anche un punto di aggregazione importante per le famiglie e soprattutto per i giovani. Ha parlato nel corso di questa puntata più volte di valorizzazione dei borghi, del territorio, di strategie e anche di rete con i comuni. Continuiamo sulla valorizzazione per vedere le fotografie del parco invece di rafforzate, anche in questo caso ci sono insomma, vediamo qui delle sculture importanti appunto di valorizzazione del luogo stesso. Sì, io sono molto orgoglioso di questo intervento perché innanzitutto ci ha permesso di recuperare alcune delle sculture che erano degli anni precedenti di Scolpire Piazza che purtroppo erano parcheggiate nel cortile, brutto dire, brutto il termine, ma questa era la realtà, nel cortile del nostro edificio scolastico invece abbiamo trovato una nuova collocazione. Questo era un campo abbandonato in località rafforzata e abbiamo voluto creare questo parco delle sculture, parco delle stelle perché da lì c'è anche una visione del cielo oltre che del panorama veramente poetica. Ancora l'intervento non è completato, abbiamo già destinato alcune risorse per riuscire bene a predisporlo, ma serviranno altre, ma questo è un progetto che sta dentro, insieme a terre roveresche, a il PIL, il famoso PIL, i programmi di intervento locale, che comprende un'idea di mobilità dolce. Quindi in primavera, puntiamo primavera, di attivare anche questo ultimo passaggio che è, a Santipolito già l'abbiamo vista, le postazioni di bike sharing, cioè di biciclette con pedalata assistita, anche perché Santipolito non è semplicissimo, da Pian di Rosa sul Bolungo non è semplicissimo, soprattutto in bicicletta, quindi questo permetterà di poter attraversare il nostro comune e non solo, anche il comune di terre roveresche e in primavera contiamo veramente di chiudere, installare anche queste bici elettriche e durante questo percorso ci si potrà fermare anche in questo parco delle sculture, ammirare il paesaggio e se invece è di notte ammirare anche il cielo stellato. Sindaco, le chiedono, buonasera, nella frazione di Pian di Rosa c'è un nuovissimo campo da calcio, purtroppo privo di tribune, si potrebbero realizzare? Sì, si potrebbero intanto sul campo sportivo, in questi anni abbiamo investito veramente tanto. Questa delle tribune è una cosa sulla quale con la società sportiva abbiamo già ragionato, chiaramente lo dico onestamente, anche in questo caso solo con le risorse del comune sarà difficile, anche se alcuni mi hanno suggerito delle innovazioni che costano pochissimo, però aperti veramente a tutto, credo che la nostra squadra meriti delle tribune, quindi siamo aperti su questo, ho chiesto alla società di venirci incontro per studiare un progetto e vedere poi come riuscirlo a realizzare, comunque massima disponibilità. Un altro messaggio per lei, ma glielo leggo tra poco, perché vorrei passare prima al teatrino di Sant'Ippolito, ecco in questo caso il finanziamento? Allora qui siamo legati, il teatrino è stato chiuso all'indomani degli ultimi eventi sismici, quindi dobbiamo aspettare lo scorrere dei fondi destinati alla ricostruzione, noi siamo molto fiduciosi che il 2024 possa essere l'anno in cui questi fondi arrivano, poter quindi andare a risistemare il teatrino, metterlo in sicurezza e dargli una sua missione, il mio sogno è di farlo tornare alle sue origini, cioè farlo essere veramente un teatro che anche Sant'Ippolito nel suo piccolo merita e anche metterlo in rete con gli altri teatri del nostro territorio, quindi siamo molto fiduciosi, speriamo che il 2024 sia l'anno definitivo. Passiamo agli eventi, intanto le chiedono, scolpire in piazza? Verrà rilanciato? Scolpire in piazza, allora era un obiettivo che c'eravamo posti, ma devo essere onesto, col Covid non si è riusciti a mettere in piedi l'organizzazione necessaria per un evento del genere. Fortunatamente è arrivata questa grande novità che ci occuperà in tutto il 2024, che è Pesaro, capitale della cultura, e con Pesaro abbiamo deciso, anzi qui ringrazio il vice sindaco Vimini anche per la forte richiesta che ci ha inviato, di essere protagonisti di questo evento. In quale settimana? Noi saremo nella terza settimana d'ottobre, ma siccome l'iniziativa che ci hanno chiesto, che abbiamo concordato, è quella di creare un'opera che rimanga a ricordo di questo anno speciale per Pesaro, quindi la realizzazione di una vera e propria scultura, che poi verrà posizionata a Pesaro, verrà donata da Sant'Ippolito a Pesaro, quindi stiamo pensando che intorno a settembre la scultura verrà realizzata all'aperto, in cui tutti potranno vedere l'artista all'opera, quindi ci sarà anche una residenza dell'artista su Sant'Ippolito, pensavamo di a settembre fare la realizzazione e poi nella terza settimana di ottobre invece la consegna ufficiale di questo dono, che è anche un orgoglio del nostro territorio. Per l'occasione non ci fermiamo qui, ci sarà tutta una serie di iniziative, io incontrerò le associazioni del territorio nelle prossime settimane per definire un calendario che ci porta alla settimana di ottobre del 2024, ma un obiettivo che ci sia un posto e che quella può essere l'occasione, questa della terza settimana d'ottobre, anche per l'apertura finalmente del nostro museo degli scalpellini. Quindi vorremmo che il 2024 sia un anno in cui riandiamo a riprendere le nostre tradizioni che hanno dato tanta identità al nostro comune e saperle rilanciare. Non sarà lo scolpire in piazza che fu, lo vogliamo creare in termini nuovi, ma uno scolpire in piazza che rimanga e che tenga forte quello che è per noi un vanto come gli scalpellini di Sant'Ippolito. A proposito di tradizioni invece, Sagra della Lumanca, Festa della Costina, confermate? Sagra della Lumanca li ho già incontrati, gli ho detto che se provano a non farla gli faccio un'ordinanza per cui saranno obbligati, visto che l'anno scorso hanno avuto un risultato veramente importante. E' ripreso poi dopo tanti anni, insomma, l'evento? Assolutamente sì, anche loro erano stati costretti con il Covid a interrompere. È un'organizzazione molto complessa, mi metto nei panni loro, so benissimo che per la CS Sor Bolongo non è impresa facile, però non possiamo abbandonare un appuntamento così forte. Mentre a quei ragazzi invece mi tocca fare l'ordinanza per tenerli un po' più fermi perché sono un vulcane, l'associazione giovani, ormai... è una vera e propria forza della natura e loro sono convintissimo che rifaranno la Festa della Costina, ma soprattutto non è tanto rifarla, ma è vedere che ogni anno ottengono risultati sempre migliori. Per cui io sono molto orgoglioso di avere nel mio comune un'associazione perché vorrei essere molto chiaro, qui non è un'associazione giovane così a lettere, ma è un'associazione giovane reale. Quando si viene alla Festa della Costina si vede i giovani che impartiscono gli ordini agli adulti e gli adulti eseguono. È un mondo alla rovescia di cui siamo molto orgogliosi. Bello e insolito. Abbiamo una locandina invece per parlarvi di una iniziativa attuale alla Biblioteca Comunale di Sant'Ippolito. È ancora listita la mostra fotografica di Sara Pergolini intitolata Sant'Ippolito, visto con gli occhi di una farmacista durante una pandemia. La mostra che è patrocinata appunto dal comune rimarrà aperta sino al 1 febbraio 2024. Anche lei sindaco rappresenta l'inaugurazione, se non sbaglio. Assolutamente sì, anche perché Sara poi è un'amica, oltre che essere stata l'ex farmacista, ma poi questa è una mostra che ha un significato molto profondo, perché come tutte le mostre fotografiche, una personale come questa di Sara, si sta parlando di un suo percorso interiore molto importante che è nato dalla paura durante il periodo di Covid, ma anche è un messaggio di speranza. Cioè da come queste pure noi ne possiamo uscire. Sara ci manda un messaggio attraverso la fotografia, attraverso i colori, lei è riuscita a ritrovare un senso, a ritrovare una gioia e a darsi forza per superare questo periodo. È giusto che io sono stato molto contento di ospitare questa mostra, non solo perché valorizza le bellezze di Sant'Ippolito, c'è tutta una parte fotografica ambientata su Sant'Ippolito, ma perché non dobbiamo dimenticarci quello che abbiamo vissuto, ma soprattutto da quello che abbiamo vissuto dobbiamo prendere questi insegnamenti che ci danno sempre un'ottica positiva. E non è un caso che questo messaggio ce lo mandi una donna e una ragazza come Sara Pergolini. Chiudiamo con questo messaggio. Le chiedono, si ricandiderà Sindaco? Ricordiamo per chi non lo sapesse che lei è al suo primo mandato, scadrà nei prossimi mesi, a maggio, e quindi potrebbe rimettersi in gioco, lo farà? Chi mi conosce sa che ci sono dei momenti nella vita in cui anche le questioni personali devono prevalere sulle questioni pubbliche. Io sto vivendo dei passaggi personali importanti che spero si risolvano il prima possibile. Chiaramente la mia scelta sulla recandidatura sarà successiva soltanto all'andamento di questi passaggi. Capisco che il tempo si avvicina, c'è rimasto poco tempo, per cui è giusto anche sciogliere le riserve, però credo che per fare il Sindaco occorre avere anche una serenità d'animo importante, perché tutti i giorni si ha confronto con la terra cruda, con la pelle delle persone, per cui occorre prima mettersi a posto serenamente al proprio interno e poi decidere se ricandarsi. E noi a prescindere da tutto glielo auguriamo. Grazie per essere stato con noi Sindaco. Grazie a voi. Grazie ancora Marco Marchetti. Io vi ricordo che tra poco alle 20.30 andremo dal nostro telegiornale. Invece l'informazione torna poi domani mattina anche alle 7 con la nostra segna stampa. Un ringraziamento e regia a Riccardo Sora e Cristiana Guerra. Grazie ancora al Sindaco di Sant'Ippolito. Buona serata. Grazie.